Ehi la ciurma e le sue mazzatesse ben ritrovati nella guerra di traccia, la prima guerra di traccia che ci vede scontrarci contro traccia di Taulantia per conquistare la zona macedone principalmente, lo stretto di Costantinopoli in vista di una futura espansione e di una futura ricreare l'impero di Alessandro Magna. Allora, siamo quasi in possesso della zona che era dichiarata, la Tessaglia, che è questa provincia qua, quindi direi che... Allora, le toglie le abbiamo preso tutte, abbiamo anche quasi tutta la Tessaglia, quindi dovrebbero poi darci il bonus, ecco. Allora, muoviamo un po' di gente via perché sennò ci prendiamo un attrito della miseria. E perdiamo 2200 di attrito? What? 2020? Porca miseria! L'attrito che non ti aspetti. Qua prenderemo di nuovo attrito perché ci sono sti stupidi della frigia che sono rimasti qua a caso. Per favore, per favore, per favore, facciamocela! Ok. Si è rotta l'animazione, lol. Ok. Yes! Yes! Li abbiamo... Vabbè, ormai si sta muovendo. Lascialo muoversi. Andiamo a farlo solo con questi, con questi. Ci sono questi stupidi di frigia che non ho ancora capito perché sono poi in mezzo ai piedi. Adesso noi abbiamo la Tessaglia. Ok. Manca un governatore in Palestina. E sto finendo la gente, non so chi mettere. Mettiamo questo, va bene. Fate figli. Abbiamo preso tre famiglie. È vero che è una famiglia di poche persone, però... Ah, ok. Abbiamo occupato dei pezzi qua di... Di taulanti, eh. No, vogliono fare il giro da sotto, vuoi che vi vedete? Ah, no. Stanno girando in su, ok. Prendiamo sempre tantissimo, Tito. Abbiamo perso centomila persone di manpower. Cioè, no, un milione. No, dieci milioni di persone. Centomigliaia... No, centomila. Cosa sto dicendo? Oh. Prendiamo duemila di manpower. Non male, dai. No, se riusciamo a prendere un po' meno di attrito. Ecco, 600 di attrito, così a meno. Abbiamo bisogno ancora di ventiquattromila uomini per riempire le nostre armate. Oh, loro hanno diminuito un po' la gente. Loro l'hanno aumentata. Ma mi sa che adesso spendono, eh. Più zero? Sul serio? Adesso dovremmo avere solo 200 di attrito, che sono qui, due in Egitto. Allora, scusate, questo qua è un forte, se non ho sbaglio, ok, che separa dalla taulantia. Potrebbe essere una cosa buona controllare questo, per evitare che mi arrivi dell'altra... A parte che sono invasi, come non so che cosa. Quindi, diciamo che... Andiamo in qua. Però quelli che sono 20.000, sono tante persone. Questi quanti sono? E' uno stratos che ha solo tre. No, no, no. Andiamo a questi qua. E' ora che ci prendiamo un po' di attrito, ma ormai vada. Ok, speriamo che non... Allora, non ci sono dei... Power Siege. Non abbiamo modo di mettere le cose in ordine diverso, no? No. No. Almeno non con la 1.0. Probabilmente magari dopo l'hanno aggiunta questa cosa. Avanziamo con questi adesso. Visto che loro avanzano quando sono a buon punto. 11 dicembre, vada. Cosa c'era là? Dei rivoltosi? Di un'orda migrante. Ce la fate, dai. Andros per piacere. Dove casco in asso non ci ha aiutato, ma perché non ha modo di arrivare fin qua. Cioè, per arrivarci via terra avevo dovuto chiedere accesso al mondo intero. Ok, un avanzamento civico. Vediamo se riusciamo a fare qualche... Di nuovo mancano dei governatori. Non c'è più nessuno da mettere. Mettiamo questo che è scarso, come non so che cosa. Non abbiamo più gente. No, cosa è che volevo dire? Vediamo se è delle invenzioni, se c'è qualcosa che ci dà magari più manpower. Diplomatic reputation. Loyalty of subject state. Old triumph cost. Home and power. Primary culture happiness. Technology speed. Technology speed. E facciamo anche home and power. Se possibile faremo poi un home and... Quando è che scade l'altro home and? Tra poco faremo quello del manpower, perché ne abbiamo davvero bisogno in questo momento. Non voglio basarmi troppo sui mercenari, ma mi sa che qua a un certo punto del gioco sarà davvero un compra mercenari, come se non ci fosse un domani. Chi sono questi? Quanti sono più che altro? 703, ma non è niente 703. Ah, è che arriva Tavolantia qua. No. Fermatevi. Se è difficile che vinciamo è meglio che non ci muoviamo proprio. Ah, Cribbio, sono qua. Sono qua Tavolantia. Ok, ormai si schienteranno contro le nostre. Ma voi muovetevi così. Prendete il trito qua, no. Hanno diminuito, ah no, questi Tavolantia, hanno Tavolantia, hanno sempre avuto il primo questo numero di corti. Dove vanno ad Arnisa? Ma non è in progresso che si spostano ad Arnisa, perché il fatto è che... No, dove vanno togliere la gente in modo da... Oddio! Il nostro comandante... Do dieci è stato colpito da una freccia. Cosa è successo? Non è successo niente. Si è salvato? Si, facciamo le olimpiedi lo stesso. Non importa se la situazione storica non è un gran che. Continuiamo a scendere di manpower. Volevo aumentare le sue truppe. Ma se si perde più di lealtà ho paura che... Non riusciamo più a guidare le sue truppe. No, c'è Andros che sta prendendo l'iniziativa qua, ma mi sa che non farà una bella fine. Forse di Marche andate a supportare. Allora... E adesso... E adesso c'è gente che muore di fame, ma è per forza, perché... Cribbio, quanti danni stiamo prendendo Era necessario Carax, eh? Ci sono arrivati addosso dei barbari così a caso Ah, è lui che ha preso delle truppe in più. No, questo è un gran casino perché qua non... Non riusciamo a mantenere, ci muoiono, prendiamo dell'attrito a caso, sei scemo Ok Ah, scusa un attimo Create new unit Ti tolgo Light infantry ha preso Due, tre E questa Ma non la smantello, però la porto Da un'altra parte Portiamola Qui ad Alessandria E poi vediamo cosa fare Guarda Alessandria, tra l'altro, la gente muore di fame perché ci abbiamo troppa gente Eh, muoviamoli Qua, ventisette, ventisette Ventisette, ventisei Stanno ancora morendo di fame? Nei siti population è tantissima Forse dovrei importare del cibo, non so Qua ci stanno questi Posso portare le fine lassù In realtà, ok Quindi non vedo perché non farlo Allora, voi che fate marce forzate, ve ne andate via senza marce forzate Ok Barbarians defeated qua Quindi anche voi potete tornarvelo tranquilli A prendere attrito ogni mese Allora, andiamo e andiamo Perché loro prendono attrito lo stesso qua? Quanto c'è di attrito? Muovetevi ed essa Tutte le guerre piccole che abbiamo fatto Per poi fare una guerra e perdere praticamente tutto il manpower Ah, no, è questo quello che ho detto E' diventato Ah, la rattrista, porca miseria, pover uomo Adesso dovremmo stare in pace per un po' di tempo Ne sono abbastanza convinto Ah, Cribbio Andross lo sta perdendo contro La traccia Che sono andati là a riprendersi il forte Niente Oh, ci sono morti tutti? Vaffanbolo Come me che sono affondati Ma perché gli schiavi li mandano sempre ad Alessandria? Non è che posso mantenere tutta la popolazione del mondo ad Alessandria? Ah, scusatemi un attimo Posso... Ne ho neanche più trade route disponibili Ah, facciamo una pace separata con Taulantria Ok, ci prendiamo 4 di aggressive expansion in più Vabbè, non voglio che perda troppi soldi Perché tanto sta venendo minato anche dagli altri Vado così Ok, quella è nostra Ora Miei cari della traccia Volete darci Tessaglia Ah No Release no, un Kaiser Però Chi è che è? Vabbè, a questo punto c'è... Non so se ce la prende o no Allora, vorrei questa No, l'epiro Cos'è che ci dà? Questa area qua E le toglie quella roba là Allora Le toglie ne ho bisogno Per passarci, per forza Boh, questi possiamo vederli poi dopo Poi cosa liberare Però non possiamo chiedere Quest'area qua Intanto questo quanto ci... Questa pace quanto ci costerebbe? Solo 10 Non è tanto Per tutto quello che abbiamo sofferto Ah, calcidice E potenzialmente anche l'Europa non sarebbe male Riusciamo ad arrivare fino all'Europa Sarà ancora una guerra lunga Però ci può stare Qua dobbiamo metterci uno Noi abbiamo solo lui Non abbiamo più nessuno da mettere Kaiser Ho bisogno di gente per ripulire tutta questa zona qua Poi vai Carpet siege in questa zona Ormai voglio di più di questo La traccia deve essere sostanzialmente ridimensionata Non abbiamo qualcun altro da metterci no No voi Andate in là Voi Andate in qua Voi state qua Just in case Voi 15.000 andate a Collaborare al carpet siege Quanta Anche per 60 navi Ok Non passare tre anni Quindi tutto quello che riusciamo a prendere in questi tre anni Anfipoli dovrebbe essere la capitale qua A manpower non ne hanno mai avuto Praticamente nell'ultimo periodo Però Ah per no Quella è una zona influencer forte Oh tu togliti dai piedi Ah no Tu vai qua Tu vai qua Tu vai qua Se riuscissimo a prendere anche questa zona Sarebbe un'ottima 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 cosa Tanto qua La traccia c'è ancora tante di quelle città Tante di quelle zone Non sarà un problema Per loro Ok dai Delle cose positive comunque Chi è Calchidicchi? Sono dei vassali di peonia Che non so chi sia All'ottavo struttosto Vabbè Questo qua Si sta spostando là Non è un problema Direi che però Continuiamo E terminiamo La guerra di Traccia Nel prossimo episodio Ciao a tutti Buona giornata Grazie a tutti